Buonasera! Buongiorno! Ancora giorno, non è sera! Eh sì! Vittoria strepitosa, un'impresa incredibile! Come l'ha vissuto questa vittoria? Per il momento ancora non me ne rendo conto perché è successo tutto così velocemente dalla Coteche Val alla discesa veloce per arrivare a Ui, qualche attacco, un po' di esitazione e ci siamo trovati agli ultimi 500 metri. Ieri abbiamo guardato molti video della corsa e abbiamo capito che prenderlo nelle prime posizioni era qualcosa di fondamentale e quando negli ultimi metri ero ancora a ruota di Anemic sentivo di avere ancora qualche energia è stato un feeling che mi ripaga di tantissimi sforzi, di tantissimo lavoro che ho fatto perché essere in grado di scattare, accelerare e fare la mia volata, se si può chiamare così è una vittoria incredibile! E poi ti abbiamo visto molto fiduciosa perché ha fatto lavorare tutta la tua squadra a Chapman ha fatto un lavoro incredibile! Sì, oggi lei era il captain on the road perché comunque è una ragazza molto forte che è partita veramente forte quest'anno, è un'ottima ragazza squadra che ha saputo dirigere le altre ragazze, me compresa, nelle fasi cruciali infatti si è fatto un grandissimo lavoro ha chiuso su una fuga pericolosa che abbiamo mancato e poi è stato solo il mio lavoro da fare quello che più mi riesce meglio, quindi un grande grazie alla squadra che sin dall'altra mattina da due mattine fa quando siamo venuti a provare il percorso ha creduto in me inizialmente questa corsa non era nei miei piani, essere qua e vincerla è qualcosa che veramente ci lascia tutti un po' stupiti! Ma sì, ma addirittura è proprio una primavera incredibile per te sei a mezzo, sei a livelli dei grandi ciclisti italiani ormai Sì, è una grande iniezione di fiducia ci ho messo qualche anno ad arrivarsi ma adesso voglio godermi a pieno questa sensazione per tanti anni ho sofferto io staccandomi a ruota e adesso invece qualcun altro che soffre un po' di più e poi 24 anni dopo Fabiana Lupereni che era la star del ciclismo italiano Sì esatto, questo è un valore aggiunto perché in Italia ci teniamo particolarmente a metterci in mostra nel mondo e così con lo stesso spirito con cui Fabiana l'ha conquistata 24 anni fa oggi si siamo presentati qua a battagliare e poter salire sul palco con lei e condividere una premiazione è un momento speciale perché non sembra ma correre per un team straniero è sempre un po' come sentirci fuori casa in ogni momento e ritrovare un italiano sul podio con me è come avere una parte della mia grande famiglia in Italia che mi supporta quindi è stato un grande piacere Grazie A voi Grazie, che bello